Buongiorno da Edo, sono tornato, sono tornato qua al comando di questo podcast, è stato un mesetto di pause, in realtà ho fatto tante altre cose, no? Sono stato in giro, ho fatto cose su altri canali, sono sbarcato su TikTok, eh? Come i nostri politici praticamente, però è stata una bella idea perché in realtà il pubblico di TikTok è abbastanza numeroso e anche abbastanza attivo, mica come voi qua su YouTube, eh? A parte gli scherzi, devo anche ringraziare il pubblico di YouTube che mi ha portato a 500 follower, poi dopo sono diventati 4,99, poi ancora 500, poi ancora 4,99. Adesso non lo so quanto siamo, ma sì, vabbè, va così, su e giù, l'altalena della vita. Vi sono mancato? Vi sono mancato? Sì, dovete dirmi di sì perché dovete mentire, anche dovete mentire alle persone a cui volete bene, no? Sto scherzando, sto scherzando, vedete che ci sono anche dei cambiamenti, eh? In questa nuova stagione del buongiornissimo, quindi cerco un po' di seguire anche i feedback che mi avete dato perché sembra che ignoro, non ascolto oppure critico i commenti che ricevo, ma in realtà li seguo, li seguo e poi magari metto in pratica qualcosa. avete detto, basta, troppo e leggi, sembra che guardi lo schermo, devi guardare in camera, devi rivolgerti al pubblico in modo più colloquiale, più informale, più confidenziale. Benissimo, allora proviamo con questa nuova modalità, meno scritta, meno letta, più spontanea, meno tagli, più guardo in camera, così vedete anche lo sguardo del leone. Però naturalmente ho anche la luce rivolta direttamente a me, ok? Quindi probabilmente li strizzerò pure perché, oh, guardare una camera con la luce rivolta è difficile. Comunque ho già fatto tantissimo tempo senza dire niente e infatti una delle novità di questa modalità di podcast sarà per forza una durata maggiore perché se non posso scrivermi le cose e leggemele, non è che non posso naturalmente, non voglio, voglio provare una cosa nuova, questo comporterà anche l'avere dei tempi un pochino più rilassati, un pochino più lunghi. Quindi, peraltro, questo è l'episodio numero 100 perché Spotify mi ha detto che ho caricato 99 episodi e quindi questo è il 100. Casualmente facciamo coincidere una certa nuova modalità con il centesimo episodio, o comunque sono delle milestone interessanti. Su YouTube magari c'è qualche video in più, però adesso iniziamo a numerare gli episodi del Buongiornissimo. Quindi questo Buongiornissimo è il centesimo della vita di questo podcast e quindi è comunque una cosa da celebrare. Benissimo, ma dopo tutta questa fuffa andiamo alla sostanza perché questo rimane un podcast in cui parliamo di tech news. E le tech news spesso riguardano, in questo periodo naturalmente nella storia di questo podcast, riguardano le IA. E anche oggi voglio ripartire alla grandissima, giocando sul sicuro, quindi andando proprio a parlare di IA. Anche perché le IA sono state al centro della cronaca anche e soprattutto italiana degli ultimi giorni. Perché la faccenda, la vicenda di ChatGPT e del Garante Privacy ha un po' calcato le cronache anche dei nostri telegiornali, giornali generalisti. E come sapete, come tutti o mai sapranno, è dal 31 marzo che non avevamo ChatGPT in Italia. Perché il Garante della Privacy aveva fatto delle osservazioni sul modo con cui ChatGPT opera in Italia, con cui OpenAI tratta i dati personali degli utenti italiani e quindi ChatGPT aveva bloccato il servizio in Italia. E il Garante aveva dato tempo fino al 30 di aprile per, così, incontrare le proprie richieste. E poi il 5 aprile si era anche tenuto un incontro tra il Garante Privacy e responsabili di OpenAI per parlare, un incontro in videoconferenza, per parlare degli step che avrebbero portato alla riattivazione del servizio. Quindi entro il 30 aprile OpenAI avrebbe dovuto conformarsi all'informativa dati personali dell'Italia, ai diritti dei propri utenti e creare una, e fornire proprio una base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi all'addestramento dell'algoritmo. Che è successo? Che il 28 aprile OpenAI ha ripristinato il servizio in Italia e ha introdotto delle nuove funzioni per il suo servizio. Tra l'altro nuove funzioni che sono anche disponibili per altri paesi, quindi poi questo lo vediamo. Quindi abbiamo fatto qualcosa di buono? Sì, abbiamo fatto qualcosa di buono, perché quello che ChatGPT ha implementato per andare incontro al Garante Privacy sono in realtà feature che un po' tutto il mondo beneficerà, ok? E quali sono queste feature? Sono tre fondamentali. Una è la disattivazione della cronologia delle chat, cioè la possibilità per gli utenti di disattivare la cronologia delle chat. Quindi le chat non saranno conversate, saranno mantenute solo per 30 giorni, e quindi non saranno mantenute di più e non saranno usate per addestrare l'algoritmo. Saranno mantenute per fare analisi statica del testo, naturalmente vedere se c'è qualcosa di potenzialmente dannoso, ma se l'utente decide di fare opt-out da questa opzione, non saranno utilizzate per l'addestramento dell'algoritmo. Poi c'è un nuovo form, adesso lo metterò a video, quindi chi mi sta guardando lo vedrà, è un form in cui gli utenti possono richiedere di cancellare i propri dati personali. Questo form è poi naturalmente anche disponibile ad altri paesi europei, perché comunque è in inglese, quindi pare che sia rivolto a un pubblico internazionale. E poi c'è un prompt per confermare di essere maggiorenni, o comunque di avere la tutela, l'autorizzazione di un maggiorenne. Peraltro chat GPT ha affermato, insomma, di essere contento di queste nuove modifiche, ma di aver chiesto anche ulteriori restrizioni per l'età. E infatti entro il 31 di maggio dovrebbero essere implementati degli ulteriori step per verificare l'età degli utenti e dentro settembre 2023 dovrebbe essere implementato un meccanismo più potente, più sicuro per la Age Verification, che è un problema naturalmente non solo rispetto a chat GPT, è un problema annoso dei social network, dei servizi internet. La verifica dell'età è qualcosa di molto importante che chat GPT dovrà in qualche modo cercare di implementare. Naturalmente questi non sono gli unici problemi a cui chat GPT andrà incontro, anche perché altri paesi stanno cominciando investigazioni su questo tema. Sappiamo della Spagna, sappiamo del Canada e sappiamo anche che c'è all'orizzonte un AI Act europeo in cui appunto la Commissione europea chiederà ulteriori regolamentazioni, ulteriori restrizioni a chi opera nel campo delle intelligenze artificiali. Quindi vedremo insomma maggiori restrizioni, maggiori regolamentazioni, anche perché le cose stanno evolvendo a una velocità tale per cui il resto del mondo, i business, stanno molto preoccupati, sono molto preoccupati di quello che potrebbe succedere. Ci sono vari esempi di cose abbastanza distruttive anche a livello di business. Pensate alla vicenda del fake Drake e fake The Weeknd, dove appunto Drake e The Weeknd cantano questa canzone originale che però non esiste, nel senso che non è stata scritta da Drake o da The Weeknd e i cantanti non sono loro. C'è una canzone che è stata poi naturalmente tolta da Spotify, tolta da YouTube, perché quelle voci sono state create da un'intelligenza artificiale e il testo è stato scritto o da un essere umano o da un AI, comunque non è un testo scritto da loro o dai loro autori. Qui naturalmente qual è il problema? Che le leggi sul copyright tendenzialmente vanno a proteggere qualcosa di creato da un autore, da un essere umano, ma in questo caso stiamo parlando di qualcosa di originale, ma con uno stile e le voci di proprietà di altre persone. Ora, andare a identificare a livello di copyright che cosa significa che una voce appartenga a una persona o a un brand e che uno stile sia riconducibile a una persona, tipo questa canzone, è nello stile di Drake o nello stile di The Weeknd, è abbastanza complesso. Ci sono altri vari esempi, ma questo in particolare è creato da un utente di TikTok che si chiama, mi pare, Ghostwriter, o qualcosa del genere, e questo è un problema, perché appunto il copyright fa più difficoltà a proteggere questo tipo di situazioni, però naturalmente queste possono causare un danno sia agli autori che ai brand, che alle major, perché se una canzone prodotta, scritta da un fake Drake è bella, questa potrebbe togliere dei soldi che gli utenti spenderebbero per ascoltare Drake. Viceversa, se è brutta, utenti non consapevoli potrebbero pensare che Drake si è messo a fare canzoni brutte, insomma, in ogni caso potrebbe essere un danno. E inizia a essere importante pensare, capire come fare ad andare in queste direzioni. Peraltro, una delle cose che il garante aveva chiesto a CiaGPT, ha chiesto a CiaGPT entro quest'anno, è di creare un'informazione migliore in Italia per dire agli utenti quali sono i loro diritti nei confronti appunto del chatbot, di quello che possono fare sul chatbot, che esiste questo form, ecco, l'informazione in generale penso che sia una delle cose primarie su cui bisognerebbe investire, anche a livello legislativo, cioè chiedere ai produttori, chiedere a chi genera algoritmi di questo tipo e a chi li sfrutta a livello commerciale o non, di aggiungere anche una parte informativa importante, potrebbe essere una di quelle cose che davvero fanno la differenza, perché le persone devono essere più informate, devono capire cosa stanno facendo, cosa stanno ascoltando, cosa significa l'AIA in generale, non devono usarlo con leggerezza né averne paura. E a proposito di paura, c'è qualcuno che ha parecchia paura, a quanto pare, di cosa sta diventando l'AIA, cosa diventerà sempre di più, ed è un qualcuno di parecchio informato sui fatti, perché si tratta di Geoffrey Hinton, che è un pioniere del deep learning, uno di quelli che aveva gettato le fondamenta delle moderne IA, tra l'altro avvento un Turing Award nel 2018. Bene, Geoffrey Hinton in un'intervista a MIT Technology Review spiega un po' quali sono le sue preoccupazioni e perché ha deciso di lasciare Google dopo dieci anni, e lo fa sostanzialmente per essere più libero, perché con un contratto in Google naturalmente ha più difficoltà, più restrizioni nel parlare liberamente dei temi a cui tiene. Prima di tutto dice di essere vecchio, dice insomma io ho 75 anni e faccio più fatica adesso a fare un lavoro tecnico, che mi richiede anche più concentrazione, di memorizzare più cose, e quindi voglio spostarmi su un lavoro più filosofico. Quindi praticamente vuole parlare dei problemi delle IA e cercare dei modi per risolverli. Si dice però abbastanza preoccupato, perché l'evoluzione che ha avuto l'IA in questi anni, soprattutto con l'arrivo di GPT-4, gli ha fatto capire che la velocità a cui stanno andando è molto più veloce di quello di cui si aspettava. Cioè inizialmente le reti neurali erano pensate per riprodurre il cervello umano, il cervello biologico, però oggi sono diventate qualcosa di diverso, potenzialmente qualcosa di migliore, perché le connessioni che ha una rete neurale sono inferiori a quelle che ha un cervello umano, però imparano cose molto più velocemente e hanno a disposizione una quantità di dati molto superiore. E quindi le capacità di queste reti sono probabilmente diverse sicuramente, ma in un certo senso migliori. Ad esempio parla di come alcuni pre-trained model abbiano già adesso dimostrato di poter imparare cose nuove, task nuove per cui non erano stati addestrati, per esempio concatenare stringhe logiche, più velocemente di quello che imparano a fare gli esseri umani, il cervello umano. Naturalmente le IA oggi fanno errori, inseriscono errori nel testo, inseriscono cose inventate, però gli dice anche le persone, anche gli esseri umani inventano cose, o comunque dicono cose inesatte, nel discorso infilano delle cose che magari non c'entrano. è confabulare, questo lo definisce così, invece che allucinazione lo definisce proprio confabulazione. Bene, però lui sostiene, Geoffrey Hinton sostiene che questi modelli stanno imitando quello che fanno le persone nella realtà, quindi questo inserire cose un po' inesatte è in fondo quello che facciamo tutti. Naturalmente lo facciamo in maniera minore, in maniera inferiore, e quindi è ancora possibile distinguere delle cose inesatte generate da un IA e delle cose inesatte generate da un essere umano, che sostanzialmente possono essere inesatti in parte, ma più attinenti al discorso. Ebbene, questa roba qua però in futuro migliorerà sicuramente, e quindi questa è una preoccupazione ulteriore, no? E poi c'è il problema della velocità di comunicazione, cioè le reti neurali tra di loro comunicano in modo istantaneo, quando un nodo della rete impara qualcosa, anche 10.000 stringhe di dati, le può trasmettere istantaneamente a tutti gli altri modelli della sua rete. La cosa con gli esseri umani naturalmente è molto più complessa, quando uno di noi impara una cosa, ci mette molto tempo a comunicarla, a trasmetterla, a farla imparare, a similare agli altri. E questa quindi è un'altra differenza notevole nella capacità di evolvere di queste reti. Quindi queste potrebbero diventare un'intelligenza superiore rispetto a quella umana? Probabilmente una forma diversa, ma superiore. La paura di Hinton è quella che diventa veramente qualcosa di migliore e che soprattutto possono essere usate in maniera dannosa, pericolosa da altri esseri umani. Fa l'esempio di qualcuno che voglia usarle per vincere delle guerre o vincere delle elezioni. E soprattutto il problema morale. Cioè, quando una IA ha un obiettivo, cosa succederà quando si potrà creare i propri sotto-obiettivi oppure gli step intermedi per arrivare a quell'obiettivo? E cosa succederebbe qualora uno di questi step, uno di questi sub-task, contenesse delle azioni immorali? E fa un paio di esempi. Per esempio, redirigere tutta l'energia o quanta più energia possibile sui propri chip per arrivare più velocemente all'obiettivo. Oppure fare più copie di se stessi. E quindi la soluzione può essere solo che come società ci mettiamo insieme, ci mettiamo d'accordo, parliamo, regolamentiamo e inseriamo appunto più limiti, qualcosa che possa fermare, bloccare sul nascere alcuni di questi pericoli. Già lo facciamo con tante cose. Geoffrey Hilton fa l'esempio delle armi chimiche, che le regolamentazioni impediscono e questo comunque ha fatto sì che diminuisse il loro uso. Naturalmente stiamo cercando di paragonare le reti neurali alle armi chimiche. forse è un paragone un po' esagerato, però se uno che ha un background di questo tipo fa questo genere di pensieri, di esternazioni, insomma un pochino bisogna, secondo me, pensarci su. Ma ci sono pericoli anche molto più vicini, molto più concreti, anzi in realtà cose che si stanno già manifestando oggi, come per esempio la perdita dei posti di lavoro dovuti alla sostituzione di esseri umani con intelligenze artificiali. Uno degli ultimi esempi, i più clamorosi, è quello di IBM. Il CEO di IBM, che si chiama Arvind Krishna, ha annunciato che bloccherà le assunzioni, nuove assunzioni, e taglierà una quantità considerevole di posti di lavoro, circa il 30% di 26.000 posizioni che non sono consumer facing, cioè lavoratori che stanno dietro le quinte e che fanno dei task che possono essere sostituiti da IA. e parla per esempio del settore dell'HR. Quindi pericoli futuri, pericoli attuali, noi intanto con il nostro piccolo passettino delle regolamentazioni del garante privacy abbiamo dimostrato che qualcosa si può fare e che le società che creano questi servizi devono adeguarsi alle norme che gli imponiamo. L'AI Act vedremo che cosa farà, naturalmente seguiremo gli step futuri per vedere dove ci porterà. Bene, quindi io direi che la possiamo chiudere qua con questa puntata 100 del nuovo corso del Buongiornissimo, quindi vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, naturalmente penso che questa sia una puntata piuttosto lunghetta, secondo me siamo intorno ai 15-20 minuti, eh, di puntata finale, perché naturalmente se non ho tutto ben scritto, tutto ben tagliato, montato, gioco forza, se andrà su questi ritmi, ma probabilmente ci sarà anche un po' di confusione in mezzo, un po' di baffling, però è un esperimento, eh, anzi, è importantissimo che vi mandiate qualche feedback, qualche commento, scrivetemi in privato, ditemi cosa va, cosa non va, se va bene, se vi piace questa nuova modalità, se vorreste qualcosa di tornare più a quello che c'era prima, oppure cambiare completamente, insomma, tanto siamo qua, siamo tra di noi, proviamo cose nuove, ci dobbiamo divertire e dobbiamo imparare ogni giorno, forse ogni due, tre giorni, ogni tanto delle cose nuove, delle news interessanti e magari fare anche un po' di opinione assieme, quindi spero che vi sia piaciuto e che vi piacerà da qua in avanti, vi do appuntamento sugli altri social, innanzitutto, perché oggi pubblico un bel videino su TikTok, forse su Instagram, insomma su qualcosa, quindi andate a vedere roba storica, perché lì il formato è sempre roba storica, qui continuerò a fare questo buongiornissimo, magari qualche altra cosetta non podcast, adesso vediamo, grazie ancora quindi per avermi supportato, per avermi iscritto robe e ci vediamo a un prossimo video, un prossimo episodio del buongiorno, ciao! Ciao!